ben ritrovati amici youtube sempre qui sempre sul mio canale con un altro appuntamento tutto dedicato al calcio mercato oggi grandi protagonisti centrocampisti abbiamo un po di tutti i colori parleremo di italia di estero di scelte clamorose di obiettivi che sfumano di giocatori talenti che se ne vanno di gente che rinnova insomma il piatto è bello ricco micifico in alto a destra la campanella potete attivare per avere tutte le notifiche in temporale che qui cambiamo orario ovviamente ogni giorno in base alle notizie anche se negli ultimi giorni stiamo trovando un po questo appuntamento aperitivo tardo pomeriggio ora di cena post cena insomma tra le 19 e 21 iscrivetevi al canale mettete like perdete due secondi più siamo meglio è più ci divertiamo siamo oltre 18 mila quindi grazie 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 per il vostro affetto tra i video insomma veramente sempre oltre 20 30 mila visualizzazioni a video che mi dicono quelli che sono un po più esperti nel settore io sono qui su youtube da tre quattro mesi se sono bei numeri e quindi grazie notizie bando alle cianci allora un talento di serie a italiano lascia il nostro calcio gaetano castroviglia anche sfortunato tanti infortuni colpi importanti va in premier league lui stava trattando il rinnovo con la fiorentina voleva un ingaggio importante la fiorentina non gli offriva la durata non c'era l'accordo tira e molle è arrivato il bornemouth e ha fatto saltare il banco 12 milioni più due di bonus uno facile da raggiungere in caso di permanenza delle cherries in premier league l'altro invece ovviamente un po più complicato legato insomma poi a future qualificazioni co-op eccetera quindi totale 14 milioni come operazione 12 più uno di bonus facile uno un po più complesso da raggiungere totale 14 milioni questo è il pacchetto domani lui vola per l'inghiterra per fare le visite mediche diritto e firmare il contratto sino al 2028 guadagnerà 3 milioni netti a stagione con i bonus arriverà sino a 4 milioni a fiorenze lui guadagnava 2 quindi insomma un passo in avanti più premi sostanzioso per il 10 della fiorentina maglia numero 10 della fiorentina che resta libera fiorentina deve prendere un sostituto l'ultima idea è il tuco per era che è una vicenda che vi voglio raccontare che tuco per era aveva accordo col bejiktas per andare in turchia 2 milioni all'anno per due anni con opzione per il terzo la moglie ha detto no 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 io non voglio lasciare l'italia non ci trasferiamo caro roberto e si sa insomma comandano le donne comandano le mogli in famiglia e il tuco ha dovuto dire no al bejiktas sperava nell'inter cui pastorello aveva offerto ma poi l'inter ha fatto il colpo samarzic che verrà completato nelle prossime ore con visite mediche firme diritto contestualmente appoggiato i centrocampisti fabian va udinese 5 anni di contratto con l'inter che però avrà la ricompra da 12 milioni aperta e chiusa questa parentesi tuco per era deve restare in italia c'era stata una chiacchierata col torino 15 giorni fa che non è decollata è stato proposto al genoa che ha preso informazioni ma non accelerato si è riaperta clamorosa dopo un mese dall'addio a trattativa con l'udinese che gli ha detto ti offro un anno con opzione per il secondo 1 e 2 più bonus per arrivare a 1 e mezzo lui vorrebbe almeno 1 e mezzo per arrivare a 2 coi premi come invece di garantiva netti il bejiktas in turchia l'ultima idea il suo agente federico pastorello ha detto vediamo la fiorentina perché è un giocatore comunque di palleggio che può fare le due fasi l'esperienza di livello che può essere utile nel 4 2 3 1 nel 4 3 3 di vincenzo italiano e quindi anche la fiorentina prende appunti vediamo dove andrà il tucco per era sicuramente un po un protagonista di questo valser di questo balletto del mercato estivo l'opato di castrovilli l'opato del tucco per era ma adesso entriamo nel vivo perché ci sono novità importanti a proposito di centrocampo che riguardano milan atalanta lazio e anche juve da dove partiamo partiamo dalla lazio perché ieri abbiamo analizzato la telenovela luisa alberto che alla fine è finita nel senso che lui si è reaggregato alla squadra si è scusato la situazione sta rientrando tutto a posto per il rinnovo 4 milioni a stagione sino al 2027 verrà formalizzato nei prossimi giorni quindi tanto tuono che piove come si suol dire perché poi alla fine tanto rumore per nulla la vicenda è rientrata e in questo momento il caso lui salberto si sta sgonfiando una bella notizia quindi per i tifosi della della lazio apro un inciso visto da una sponda all'altra della capitale parliamo di roma perché la roma è vicina al colpo marcos leonardo attaccante di grande talento 2003 del santos considerato un gioiellino qualcuno ha detto il nuovo romario adesso non mettiamo di troppe pressioni aspettative ma sicuramente puntano e credono tanto in brasilia e su di lui operazione da tra i 16 e 18 milioni coi bonus 16 si arriva a 16 facili poi ce ne sono altri due un po più complicati da raggiungere si può arrivare sia un massimo di 18 milioni si sta trattando sulle modalità di pagamento ma c'è la voglia di chiudere due già d'accordo un milione e mezzo più bonus per cinque anni sta curando l'operazione raffaella pimenta è abbastanza fiduciosa in questo momento la roma di arrivare al traguardo di chiudere il colpo marcos leonardo primo rinforzo per murino che però vuole anche un attaccante esperto non smette di sognare morata ma si accontenterebbe anche di arnautovic sul quale bologna adesso fa un po di veto ma il ragazzo è il ragazzo poi si fa per 10 34 anni arnautovic ambirebbe ad andare in una big quindi questa è anche la situazione della roma torniamo al tema centrocampisti buona notizia per la lazio vi ho raccontato di castroviglia e delle dinamiche della fiorentina la vicenda del tucco per era c'è una situazione ovviamente fatta samars dice fabian attendiamo solo visite mediche firme di rito c'è una situazione da seguire molto interessante che si sta delineando e che vi avevo un po svelato nei giorni scorsi ieri ne avevamo parlato ma adesso si fa sul serio perché c'è l'accordo tra atalanta e migan per charles de chetelare qui centrocampisti sono un po più offensivi trequartisti fantasisti giocatore cade l'uso zero gol appena un assist numeri ovviamente da portiere l'anno scorso ma atalanta ci crede perché gli scout dell'atalanta rivedono alcune movenze alcune giocate di de chetelare che ricordano iosi pilicic mancino un po claudicante un po giocatore da fermo avevano seguito a lungo quando giocava nel bruge l'atalanta ci crede quindi dal nerazzurro del bruge rosso nero non ha pagato di nuovo il nerazzurro accordo trovato atalanta migan 3 milioni di prestito oneroso 23 di diritto senza obbligo senza contro contro opzioni da parte del migan di diritto di riscatto se fa bene lo riscattano a 23 se no torna al milan questo è in sintesi l'accordo trovato 5 anni di contratto 2 milioni nette a stagione più bonus per de chetelare che al milan quest'anno guadagnerà 2 4 però qualcosa in meno ma un anno in più alla fine insomma si trova una quadra poi bonus arriverebbe a 2 milioni e mezzo in caso di qualificazione alle coppe europee dell'atalanta che non è impossibile l'atalanta ha fatto le coppe sei volte negli ultimi sette anni ma anche il sì definitivo di de chetelare che ha dato un'apertura importante ma che ci sta pensando ha avuto delle proposte anche da l'ans dalla real sociedad aveva detto il neopio svendoven c'è qualcos'altro che si muove ma sotto sotto lui comunque di lasciare l'italia da sconfitto da bidone da pacco avete visto sui social le prese in giro insomma lui non ci sta lui vuole riscattarsi l'atalanta dovrebbe essere un ambiente giusto un allenatore come gasperini che fa i miracoli o lo rilancia gasperini o tra virgolette bisogna andare all'urdo nel senso che poi a quel punto si troppi anche con gasperini con l'atalanta che in questi anni ha fatto miracoli lanciato e valorizzato tutti diventerebbe dura per de chetelare e tornare protagonista e quindi attenzione perché sono ore calde con l'atalanta che vorrebbe chiudere un giro di 48 ore in uscita dal milan adli sondaggio dell'ajax tante offerte all'estero però lo vorrebbe sousa salerno come vi abbiamo raccontato ieri arriviamo poi alla notizia forse più interessante di oggi ennesimo giocatore di prima fascia importante che va in arabia saudita siamo in chiusura per frank che sia la lali la lali ha come prima scelta ambrabat 10 milioni all'anno per tre anni no di ambrabat non per questioni di soldi ma perché vuole andare al manchester united d'accordo per quattro anni con l'opzione facile per il quinto da 4 milioni a stagione più bonus la fiorentina aspetta un'offerta si sta trattando ambrabat potrebbe andare per una cifra tra 28 e 30 milioni al manchester united e quindi ha detto no alla lali la lali che aveva cercato un mese fa ne avevamo proprio parlato in uno dei video lo trovate credo 28 29 di giugno con frank e si che era inizialmente il primo obiettivo poi la prima scelta era diventata ambrabat 15 milioni accordo trovato in giornata praticamente siamo allo scambio di documenti tra la formazione saudita che gioca a jedda perché la lali gioca a jedda formazione bianco verde come colori sociali e barcellona 15 milioni tutta plus valenza e barca l'aveva preso a zero ricorderete quando chessino rinnovò con il milan perché si triennale da 18 18 avete capito bene 18 milioni netti a stagione lui a barcellona guadagna 6 e mezzo può arrivare se barca dovesse fare il triplet e vincere tutto a un massimo di 9 il doppio per tre anni che si è pronto a dire si e fa anche rima e siamo in chiusura e sfuma quindi ipotesi juve juve che adesso tiene in caldo thomas parte in uscita dall'arsenal o freuler in prestito ma prima devono esserci le uscite a proposito di centrocampisti nicolussi caviglia piace salernitano e frosinone amiretti piace a monza e salernitana zaccaria è sparito il west ham è complicato ellipsia occhio al monaco il monaco sta prendendo sta prendendo posizioni c'è una bozza d'intesa tra zaccaria e il monaco ma il monaco non vuole pagare i 20 milioni che chiede la juve prestito con obbligo quindi lavori in corso per mckenny invece si cercano pretendenti che al momento non si intravedono all'orizzonte direi che è tutto grazie ad essere stati in mia compagnia voglio sapere la vostra che si fa bene ad andare in arabia a prendere tutti quei soldi o forse era meglio accettarne qualcuno in meno molti in meno ma tornare magari in italia la juve essere protagonista o provare a restare a barcellona anche se sciavi l'aveva fatto fuori e lo considerava la sesta scelta castroviglia al bornemouth è la sorpresa di giornata cosa ne pensate fa bene e vi piace l'idea eventualmente tu coopererai la per la fiorentina marcos leonardo punta giovane per la roma ma morigno vuole anche un esperto siete contenti i tifosi giallorossi guis alberto la fine rinnova immagino anche i tifosi da razio siamo felici e poi questo de ketelara atalanta sarà un flop o tornerà al top gasp fa il miracolo voglio i vostri pareri i vostri commenti feedback sotto il video naturalmente lasciate le vostre impressioni i vostri commenti i vostri pareri condividete il video spammate ovunque amici zii nonni bisnonni cugini parenti trisavoli fidanzate amanti nemici avversari rivali ovunque spammate ovunque soprattutto l'invito è sempre lo stesso vedete due secondi fate clic 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 e vi iscrivete più siamo meglio è più ci divertiamo ciao a tutti